Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regione della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Continuiamo la nostra Catechesi sul Sesto Comandamento. Stiamo facendo diverse dirette proprio su questo comandamento perché è molto articolato, vuol dire che ha una grande importanza. Invece oggi si dà poca importanza a questo comandamento, non lo si osserva in gran parte e purtroppo a causa di questo abbiamo una catastrofe a livello familiare, a livello giovanile e la perversione è anche imperversa sempre più. Quindi entrare in queste dinamiche della dimensione, della procreazione, della relazione corporea dell'uomo e della donna è molto importante per capire quali sono proprio i valori fondamentali di questa relazione e come vi era al meglio questo tipo di relazione fisica che come sappiamo può avvenire soltanto in modo santo, degno e giusto solo nel matrimonio come sacramento unico e indissolubile e anche fedele. Saluto tutti voi che siete in diretta, siamo tanti anche questa sera Francesco Castiglia, Silvie Rossi Procopio, Tettatri, Antonio Giaffreda, Arita Pibbia, Anastasia Guarino, Regione della Pace, i miei collaboratori Giuliano Cassera Moretti, Patrizia Moxedano, Anna Rita Spano, Valentina Paolillo, Rossi Fulvo, Roberta Palmigiani, Giulio Pusceddu, Silvana Marsiglia, Grazia Boieri, Ida Felicia Pop, Teresa Capozza, Monica Franzoni, Patrizia Bucci, Rosalo Piccolo, Federica Zorzella, Rodica Prisacario, Anna Rita Spano, Nunzia Placentino, Dani Bielli, Olga Rado, Larissa Prota, Patrizia Bucci, Elena Zedio, Maria Concetta Tomaselli, Maria Delia, Luisella Manuritta, Chris Elul Caruso, Elisa Paladino, Rebecca Gabriele, Manuela Colicchia, Mettete tanti commenti carissimi amici e amiche, ho ripetuto diverse volte di non fare troppi commenti perché altrimenti non riesco a salutare tutti e poi mi confondo, non riesco a ricordare tutti i nomi e le ripeto più volte. Ecco gentilmente, chi ha già commentato non commenti più, almeno fino a quando non finischi i saluti, così posso salutare diverse persone. Poi diversi di voi vedo che mettono già l'intenzione di richiesta di preghiera, ma questo non è il momento della preghiera, è il momento della Catechesi. La preghiera la facciamo alle 15 con la Colocchia della Dina Misericordia e poi due volte a settimana, solitamente il giovedì e la domenica il Santo Rosario, ma alcune volte faccio anche tre volte a settimana. Quindi quello è il momento della preghiera, mentre adesso è il momento della Catechesi, quindi gentilmente non mettete richiesta perché non stiamo pregando. Se volete poi delle richieste particolari potete farvi aggiungere ai cenacoli di preghiera che abbiamo su WhatsApp, potete inviare un messaggio privato o sulla pagina con il vostro numero WhatsApp oppure sulla mia pagina personale, anche se ci sono un po' di messaggi arretrati e con il tempo tutti quelli che hanno inviato il loro numero saranno inseriti nei cenacoli. Abbiamo circa 11 cenacoli, credo che ci siano più di 800 persone iscritte e quindi è un grande cenacolo virtuale dove ogni giorno alle 15 si prega la coroncina e la sera, tutte le sere alle 21 e 30, c'è il Santo Rosario. Ecco, quello è il momento della preghiera, in modo da andare avanti ordinatamente e non in modo confuso. Quindi gentilmente, ecco, chi ha già commentato non commenti fino a quando non finisco i saluti. Dunque continuo i saluti con... Antonio Giaffreda Alessandra Roma Giussi Boffo Anna Maria Lobbianco Antonella Bucci Carmen Costanzo Giovanna Chiapparino Giussi Cocco Carmen Michici Salaluna Cesare P. di Paganini Gelli Cristina Piccoli Domenica Nile Elena Caterina Costanza Capamolla Stella Giurlanda Maria Antonietta Carusotto Beatrice Corda Cristina Capelli Antonio Catanzarisi Franco Schampion Anita Bollini Rocco Santaguida Tonia Pezzolla Domenico Andrea Vitale Dominga Maria Domenica Pioggia Graziella Gallace Teresa Prestanizzi Raffaella Boemio Spada Vecchia Lasco Angelica Caterina Gallace Virginia Concu Maria Aronica Rosa Cioce Anna Rende Russo Concetto Fabiola Manca Grazina Pieperzi Ecco a tutti voi che siete in diretta Bene possiamo iniziare Questa diretta Siamo in tanti Siamo già Più di 220 Vi ricordo di condividere Questa diretta Su tutti i vostri profili Facebook E anche di copiare il link E inviarlo A tutti i vostri amici In modo che tanti Possano essere coinvolti Ne avranno sicuramente Dei benefici Ad ascoltare La lettura Il commento Del catechismo Su questo Sesto comandamento Che veramente Al tempo di oggi E' molto trascurato E poco conosciuto Anche nelle sue conseguenze Morali e spirituali Quindi cerchiamo Di approfondirlo Siamo giunti A questo titoletto Il dono del figlio Al numero 2373 La Sacra Scrittura E la pratica tradizionale Della Chiesa Vedono Nelle famiglie numerose Un segno Della benedizione divina E della generosità Dei genitori Ecco dunque La Sacra Scrittura E la pratica tradizionale Della Chiesa Vedono Nelle famiglie numerose Un segno Della benedizione divina E della generosità Dei genitori Tant'è che Già il libro Della Genesi Dio Dice Ai progenitori Ad Amedeva Siate fecondi Riempite la terra Soggiogatela Ecco Moltiplicatevi Dunque E' una benedizione Avere molti figli Invece oggi Sembra quasi Che il figlio Sia una maledizione Tant'è che Poche coppie Superano I due figli Molti si accontentano Di un solo figlio Per trovare delle famiglie Con tre o più figli Oggi E' veramente come Andare in cerca Del lago del pagliaio Specialmente Al nord Mentre al sud Ancora ci sono Delle famiglie Con qualche figlio Ed ecco Il fatto Della Nostra grave Crise demografica Come dice qualcuno Noi siamo Un paese Che ormai Sta morendo Perché non nascono Più bambini Persino qui al sud Dove c'è stata sempre La tradizione Di famiglie Molto numerose Nel passato C'erano famiglie Con nove Dieci Undici Di dodici Quindici figli Ecco invece Anche qui I figli sono diminuiti Tantissimo Tant'è che anche Le nostre comunità Stanno agonizzando E molte scuole Hanno chiuso Gli asili pure E veramente Sono comunità Che vanno Poi c'è Chiaramente Al sud Abbiamo una forte Emigrazione Che svuota Continuamente Le comunità Io ho una piccola Comunità Che in quindici anni Si è completamente Dimezzata Ecco allora I figli sono Una grande Benedizione di Dio E se si ha Coraggio Di generare la vita Dio aiuta Mi viene in mente Questa famiglia Che ormai È famosa Perché è andata Anche a Sanremo Non stimo Per nulla Sanremo Però Sono andati Pazienza Almeno hanno fatto vedere Che esistono Delle famiglie Belle Numerose Credo che siano Già Al Diciasettesimo O Sedicesimo Figlio La famiglia È Nania Di Catanzaro Ecco una famiglia Di un gruppo ecclesiale Che sono i neocatecumenali E hanno Mi sembra 16, 17 O 18 figli E quindi Come fanno ad andare avanti Mi ha spiegato Ci conosciamo Ci conosciamo ormai I più grandi I più grandi Aiutano i più piccoli E così si va avanti Chiaramente Sicuramente ci sarà Anche qualche aiuto E solidarietà Da parte della comunità Però Si può andare avanti E avere una bella famiglia Anche con Con un po' di austerità Mentre oggi Noi siamo abituati Allo sperpero E al lusso Anche in tempi di crisi Perché io vedo Che molti ragazzi Hanno dei cellulari Di centinaia Se non qualcuno Quasi di migliaia di euro Allora vuol dire Che non c'è Il problema Per diverse persone Della crisi Mentre sappiamo Che al contrario Per tante altre Credo 4-5 milioni di persone C'è una grande crisi Quasi Non riescono a mangiare Quotidianamente Ecco Siamo in un tempo Di grandi contraddizioni Ma sicuramente La vita È un qualcosa Che Dio benedice E che Dio provvede Anche di quello Di cui ha bisogno Al punto 2374 Dice il catechismo Grande la sofferenza Delle coppie Che si scoprono sterili E la sterilità Purtroppo È sempre Più dilagante Perché è questo? Molto dipende Dai rapporti Prematrimoniali E dai metodi Contracettivi Se una coppia Per due anni Tre anni Cinque anni Dieci anni Dice al proprio corpo Io non voglio Che tu procrei E il corpo Recepisce questo messaggio E dice bene Poiché tu non vuoi Che io procrei Non procreerò più E non hanno più Figli Diventano sterili Poi ci sono Chiaramente Tante altre Situazioni Che portano A sterilità Però credo che questa Sia una causa Molto diffusa Di sterilità Che mi darai? Chiede Abramo A Dio Io me ne vado Senza figli Genesi 15 2 Dammi dei figli Se no Io muoio Grida Rachele Al marito Giacobbe Capite Il dono Dei figli Veramente Un qualcosa Di grande Un dono Immenso La vita Io dico sempre È il dono Più grande Che Dio Fa sulla terra Non c'è Un dono Più grande Della vita E al contrario Delle coppie Che desidererebbero Un figlio Con tutto se stesse Che non riescono Ad averle Io benedico Ogni tanto Delle coppie Che vengono A trovarmi Perché magari Hanno avuto Più di un aborto Spontaneo E poi con le preghiere E con le benedizioni Sono riusciti Ad avere il bambino Veramente La preghiera Può fare molto In questo campo Perché Dio È amante Della vita Dio vuole dare Donare la vita Ecco allora A fronte di queste coppie Che non riescono Ad avere bambini Ci sono poi Milioni di coppie Che i bambini Li uccidono Con l'aborto Con la pillola Il giorno dopo Con la distruzione Degli embrioni Soprannumerari E così via Quando queste coppie Desidererebbero Con tutto se stesse Un bambino Basterebbe che queste coppie Che hanno procreato E che però Non desiderano Crescere il bambino Lo facessero nascere E lo affidassero In adozione A queste coppie Invece Quell'egoismo Che viene proprio Dal peccato Fa sì Che una mamma Un papà Preferisca Uccidere il proprio figlio Piuttosto che donarlo Ad un'altra coppia Allora lo sai Che è tuo figlio Però In una perversa Dinamica Di Egoesimo Preferisci Ucciderlo Terribile questo Le tecniche Che provocano Una dissociazione Dei genitori Ecco no Andiamo al punto 2375 Le ricchezze Che non vanno bene Che non sono Secondo il progetto Del creatore E uno di questi metodi È la fecondazione In vitro Sia la fecondazione Omologa Che la fecondazione Eterologa Quindi la fecondazione Omologa È quella All'interno Della coppia Cioè con l'ovolo E con lo spermatozoo Nella moglie Del marito Mentre quella Eterologa Con uno dei gameti Maschili O femminili Cioè l'ovolo Spermatozoo È un gamete Esterno Alla coppia In questo caso Si tratta Di un vero e proprio Adulterio Biologico È come se la moglie Tradisse il marito Lo tradisce In un modo Veramente Profondo Perché da questo Tradimento Ne nasce un figlio È un tradimento Biologico Quindi Si ha un figlio Con una persona Che non è Il proprio marito O che non è La propria moglie Le tecniche Che provocano Una dissociazione Dei genitori Per l'intervento Di una persona Estranea Alla coppia Dono di sperma O di ovocita Prestito dell'utero Oggi si parla Del cosiddetto Utero in affitto Voi pensate Che obbrobbio È quando persino Le mamme Prestano il proprio Utero Alle figlie E quindi Il figlio Nasce dal grembo Della nonna È qualcosa Di abominevole Questo Si sfasano Si sfasano Tutti i rapporti Umani Senza parlare Da quel punto di vista Morale E spirituale E quel bambino Chi chiamerà mamma? La mamma biologica O la mamma Che l'ha portata Che l'ha portata Nel grembo Per nove mesi È un qualcosa Di assurdo Dunque Queste tecniche Sono gravemente Disoneste Dice il catechismo Quindi le tecniche Della fecondazione Eterologa Sono gravemente Disoneste Tali tecniche Inseminazione E fecondazione Artificiali Eterologhe Ledono Il diritto Del figlio A nascere Da un padre E da una madre Conosciuti Da lui E tra loro Legati dal matrimonio Tradiscono Il diritto Esclusivo Degli sposi A diventare Padre E madre Soltanto L'uno Attraverso L'altro Quindi Si lede Sia il diritto Del figlio Che il diritto Esclusivo Degli sposi E in ogni caso Si lede anche Un altro diritto Che è quello Del creatore Che tutto avvenga Secondo l'ordine Che lui Ha prestabilito Fin dal momento In cui ha creato L'umanità Quindi il primo diritto È quello di Dio Poi quello del figlio E poi quello Della stessa coppia Chi distrugge Queste dinamiche Non realizza Se stesso Nei se stessi Come coppia E sicuramente I bambini Purtroppo Avranno Delle gravi Ferite Psicoaffettive Che se le porteranno Per tutta la vita Volevo parlare Un attimo Poi Degli embrioni Soprannumerari Cosa sono Questi embrioni Soprannumerari Che purtroppo Molte coppie Non comprendono Quello che stanno facendo Cioè La fecondazione In vitro Solitamente Fa sì Che vengano Fecondati Più embrioni Nel passato Cinque Sei O più Oggi Credo che si tratti Di una fecondazione Di tre Ovuli E dunque Si creano Tre embrioni Che sono tre bambini Allo stato Embrionale Ma soltanto uno Forse Sopravviverà Gli altri Moriranno E i medici Lo sanno già Come lo sanno già I genitori Questo Ho parlato anche Con un professore Di sacra scrittura E mi ha Diciamo Affermato Ha riconosciuto Quello che io Gli dicevo È Assimilabile All'aborto Quindi Chi compie La fecondazione In vitro Fecondando Già È gravemente Disonesto Fare la fecondazione In vitro Ma poi Chi feconda Più ovuli E dunque Più embrioni E poi Questi embrioni Muoiono Si assimila A chi Compie L'aborto E ci sono Magari delle coppie Che fanno Queste fecondazioni Una, due, tre, quattro, cinque E uccidono O fanno uccidere O fanno morire Decine di bambini Senza contare Poi le conseguenze Spirituali Tant'è che Per un solo aborto Alcune volte Si può rimanere Posseduti Quindi Le coppie Che fanno Queste cose Avranno Dei gravi Traumi Sia psicologici Perché hanno uccisi I loro figli E prima o poi Ne prenderanno coscienza E anche spirituali Ma avranno Conseguenze spirituali Cioè Sacrificando I loro figli A Satana Attraverso Queste tecniche Diaboliche Si attaccheranno Addosso Dei demoni I quali Poi agiranno E solitamente Metteranno Molta Difficoltà All'andamento Della coppia Tante volte Si può giungere Persino al divorzio Senza contare Che ci possono essere Delle ossessioni Vere e proprie Diaboliche O delle possessioni Nei casi più gravi Quindi bisogna Fare molta attenzione Quando si va Contro Il disegno Del creatore Contro La natura E la verità Che Dio Ha iscritto Nell'essere Dell'uomo E della donna Le conseguenze Sono sempre Gravi Non sono mai Delle conseguenze Lievi Quindi se qualcuno Di voi Ha fatto questo Che vada più presto A confessarsi E fare una buona penitenza Per riscattare Quello che ha compiuto Per purificarsi Da questo peccato Così grave Al punto 2377 Dice Praticate in seno Alla coppia Tali tecniche Inseminazione E fecondazione Artificiali Omologhe Sono forse Meno pregiudizievoli Ma rimangono Moralmente Inaccettabili Dunque Prima abbiamo parlato Della inseminazione E fecondazione Eterologa Cioè con una persona Esterna alla coppia E adesso Quella Omologa Che è meno pregiudizievole E meno grave Ma rimane in ogni caso Moralmente Inaccettabile Perché un bambino Non può nascere In una provetta Deve nascere Nel grembo Della mamma Deve nascere Dentro l'utero materno Dove trova L'ambiente Più sano Più giusto Per poter Attecchire E crescere E sentirsi Amato Il freddo vetro Di una provetta Non può comunicare Mai E poi mai Amore Diventa Una pura tecnica E dunque Uno Nessuno vuol sentirsi Figlio Di una tecnica Ma tutti Vogliono invece Sentirsi figli Di un atto Di amore Dei propri genitori Dissociano Questi genitori L'atto sessuale Dall'atto Procreatore Le due cose Devono stare insieme Perché così Ha voluto Il creatore L'atto sessuale Deve Generare La vita Non si deve Fare un atto sessuale Come potrebbe essere Procurare Il seme maschile O L'ovulo femminile Senza L'unione Cioè La comunione Carnale Dell'uomo E della donna In questo caso Si va Contro il progetto Del creatore L'atto che fonda L'esistenza Del figlio Non è più Un atto Con il quale Due persone Si donano L'una All'altra Bensì Un atto Che affida La vita E l'identità Dell'embrione Al potere Dei medici E dei biologi E instaura Un dominio Della tecnica Sull'origine E sul destino Della persona Umana E dunque Vi è anche Una selezione Poi degli embrioni Cioè Gli embrioni Più deboli Oppure Gli spermatozoi Che potrebbero Sembrare Più deboli O gli ovuli Che non sembrano Magari Molto ben formati Vengono eliminati E magari Proprio da Quell'ovulo lì Dio voleva Far nascere Un suo figlio E allora Questa diventa Una selezione Eugenetica Stile Nazista Come quello Che Hitler Faceva praticare Nei lager O in altri Laboratori Dove si compivano Delle vere e proprie Mostruosità Per fare La razza Ariana La razza perfetta L'uomo intelligente La macchina Da guerra potente Oppure L'uomo bello La donna bella Perfetta Sotto l'aspetto fisico Ma questo non è Il progetto di Dio Questo è un progetto Diabolico Di sostituirsi A Dio Una stifatta Relazione di dominio E in sé Contraria Alla dignità E all'uguaglianza Che deve essere comune A genitori E figli La contraria E la procreazione E privata Dal punto di vista Morale Della sua perfezione Proprio quando Non è voluta Come il frutto Dell'atto coniugale E cioè Del gesto specifico Dell'unione Degli sposi Soltanto il rispetto Del legame Che esiste Tra i significati Dell'atto coniugale E il rispetto Dell'unità Dell'essere umano Consente Una procreazione Conforme Alla dignità Della persona umana In sintesi Praticamente I bambini Devono nascere Da un atto Di amore Che giunge Alla Unione Fisica Dell'uomo E della donna I due Saranno Una carne sola E dunque Invece Non deve nascere Il bambino Dentro Una provetta Dopo una selezione Sia dello spermatozoo Che dell'ovulo E magari Una volta che Vengono fecondati Una selezione Degli embrioni Questo poi E' un vero e proprio Omicidio Perché si sta Uccidendo Un bambino Allo stato Embrionale E tutti coloro Che compiono Questo Incorrono Secondo il diritto Canonico Nella scomunica Latte sentenze Cioè E vengono Separati Dalla chiesa Non possono Ne confessarsi Se non hanno Il Proposito Di non commetterlo Più E se non hanno Il dolore Di quello Che hanno compiuto E non possono Chiaramente Accostarsi Alla santa comunione Si trovano In stato Di peccato Grave O peggio ancora Mortale Adesso Voglio Leggere Un po' Dei vostri commenti Ecco Mosè Che apre Questo mar rosso Dell'abisso Di perversione Nel quale Noi stiamo vivendo Rosifulvo Dice Don Pietro Aspettiamo Con ansia La diretta Non viviamo Bene Senza Dio la benedica Sempre A me Mi fa molto piacere Carissima Rossi Che queste dirette Vi aiutano A capire Tante volte Le dimensioni Della vita Che sono state Smarrite Nel passato Erano semplicissime Ma nel tempo Attuale Con il progresso La tecnica La tecnologia Si sono smarriti Quei valori Semplici E fondamentali Della nostra Esistenza Di uomini E donne Ma anche Di cristiani E cioè Di figli Di Dio Dora Semeraro Dice Scusa L'avete già recitato Il santo rosario No carissimo Il santo rosario Si recita Nei cenacoli Che sono su whatsapp Se vuole Aderire Può inviare Il suo numero In un messaggio privato Stella cometa Dice a me Dio Degli ovociti Degli ovociti E dello spermatozoo Non si sa Chi è il padre E alcune volte Anche chi è la madre Perché ci sono Migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di bambini Si deve sempre accogliere Si deve accogliere a qualsiasi età Gesù ti aiuta a superare ogni difficoltà Si carissima Antonella È giusto Nel momento in cui nasce un bambino Indubbiamente si deve accogliere Si deve educare Si deve amare Si deve trattare come qualunque bambino Però bisogna anche dire che I bambini hanno il diritto di nascere all'interno Del matrimonio In una coppia Santificata per noi cristiani Dal sacramento del matrimonio E che sia una coppia stabile E non magari In un rapporto occasionale Che non è stato un vero e proprio rapporto E non è stato un atto di amore Ecco Quindi i bambini hanno il diritto di nascere Da un atto di amore All'interno di una famiglia Stabile Che è fondata sul sacramento del matrimonio Questo per noi cristiani cattolici Silvana Marsiglia dice Io sono l'ultima di sette figli Mia mamma dice sempre Che se non fosse andata in menopausa Dopo che sono nata Avrebbe sicuramente avuto altri figli Bene, sette figli Una bella famiglia Carissima Silvana Speriamo che Altri Scelgano di fare questa strada Cioè di generare La vita Tettatri dice Don I medici non sanno Che tutto questo è peccato Che non si deve fare O pensano solo ai soldi Ecco Questo è il punto Nevralgico Carissima Tettatri Pensano solo ai soldi Qualche volta magari qualche medico Pensa di far felice una coppia Facendo quelle cose Ma solitamente Quello che loro pensano È di guadagnare denaro Perché una fecondazione Di queste Compiuta con queste tecniche È costosissima Una volta una persona Ha detto Che la figlia Gli è costata Quasi quanto una Ferrari Ecco Per dire Io non so quanto costa Una Ferrari Ma costerà moltissimo E quindi Per poter avere un bambino Tante volte Attraverso queste tecniche Bisogna spendere Una marea di soldi E poiché c'è un grande business Poiché Tantissime coppie Oggi non riescono A avere figli Chiaramente La fecondazione Omologa E ormai etereologa Anche in Italia Viene pubblicizzata Come una cosa normale Tranquilla Senza pensare Ai diritti Del bambino Che è colui Che deve essere Salvaguardato Più di tutti Caterina Pietro Dice I servi di Dio Settimio Manelli E Licia Gualandris Hanno avuto 21 figli Loro sono stati Formati da San Pio Uno dei loro figli È padre Stefano Manelli Fondatore Dei Francescani Dell'Immacolata Sì Lo conosco Ed è un bellissimo Orde Una congregazione Questa dei Francescani Dell'Immacolata Che stanno subendo In questo tempo Gravi Angherie Speriamo Che il più presto Possano finire E che anche Padre Stefano Sia lasciato in pace E porterà avanti La sua missione Silvana Pensa bene Dice Don Perché non fa Gli esercizi spirituali Sarebbe bellissimo Sa carissima Silvana Che ci avevo pensato Un po' di tempo fa Poi il pensiero È andato via Però lei me lo ricorda Potremmo anche farli Perché no Si potrebbe pensare Una volta alla settimana O un paio di volte Alla settimana Di fare degli esercizi spirituali Anche se avevo già iniziato La lettura È il commento Di Filotea Che più o meno È quasi una forma Di esercizi spirituali Che è un testo Molto bello Un testo classico Di San Francesco di Sales Teresa Codecasa Dice la nascita È solo ed esclusivamente Un atto di amore Come ha voluto Dio Dovrebbe essere così Carissima Teresa Invece vediamo Che oggi Anche la vita umana È diventata Una fonte di commercio E di guadagno Giovin Mancino Dice Con queste catechesi Sto imparando Veramente tanto La ringrazio tantissimo Lode e gloria a Dio Ecco solo a loro Carissima Giovin Non a me Ringraziamo Gesù e Maria Io come dico sempre Sono un povero Piccolo strumento Inadeguato anche Cerco di fare Quello che posso Giussi Mollica Dice grazie Della bella catechesi Don Pietro Io sono madre Di due miracoli Due bimbi Sono i miei gioielli Ma purtroppo Altri due bimbi Li ho persi Per aborti spontanei E quindi Ho due angeli Sì carissima Giussi Ecco però Io ho visto Come ho detto Già prima Che quando Viene concepito Un bambino Se si prega Oggi ho Consacrato Un bambino Al cuore Immacolato di Maria E ieri Ho consacrato Un neonato Al sacro cuore Di Gesù Per mezzo Del cuore Immacolato di Maria Io vedo Che queste Consacrazioni Queste preghiere Queste benedizioni Funzionano Cioè i bambini Vanno avanti Le gravidanze Non si interrompono Quando ci sono Le benedizioni E l'ho notato In tanti casi In diversi casi Che mi sono capitati Luisella Manuritta Dice Sì Don Pietro Tutte queste pratiche Sono un abominio Proprio così Carissima Luisella Un abominio Sia agli occhi di Dio Ma anche agli occhi Di coloro Che utilizzano La loro ragione Rettamente E che hanno Un minimo di luce Della fede Chi invece Ha smarrito la fede E non utilizza più La ragione In modo retto Pensa che siano Delle pratiche Normali Anzi Dice che è un diritto Fare queste cose Che è un bene Fare queste cose Le conseguenze però Poi inevitabilmente Ci saranno E saranno Alle volte Molto negative Antonella Nedda Dice La famiglia È un dono Del cielo I figli Sono un dono Di Dio Viva la famiglia Proprio così Mi raccomando Dunque In questo tempo Così difficile Cerchiamo di impegnarci Nella difesa Della famiglia Poiché come ha detto Sor Lucia Oggi La lotta Tra Dio e Satana Si svolge Sulla famiglia E infatti Vediamo Quante famiglie Stanno andando In rovina Murano Murano Antonella Dice Le vostre parole Sono sante Mamma di tre figli Giuseppe Si diploma di teologia Figlio Buono Gaetano Luca Ismaele Il terzo Un po' preso dal mondo I miei tre figli Sono nati naturali Non è giusto L'inseminazione artificiale I figli si fanno Al naturale Ringrazio la Madonna E Gesù Che ci sta vicino Proprio così Noi stiamo Facendo un sacco Di cose Contro natura O che vogliono Sostituirsi Alla natura Come queste tecniche Le conseguenze Non saranno Che negative Come dicevo prima Perché Non si può andare Contro la natura La natura si ribella Noi abbiamo Delle dinamiche Che non sono Semplicemente E puramente Materiali O fisiche Ma delle dinamiche Spirituali Abbiamo l'anima Siamo fatti A immagini e somiglianze Di Dio E Dio vuole Che noi nasciamo Attraverso un progetto Ben preciso Che è sempre All'interno Di un grande disegno Di amore Perché Dio È amore Chi rimane Nell'amore Rimane in Dio E dunque Tutto quello Che l'uomo fa Deve essere fatto Con un atto di amore E per un fine Di amore Così specialmente La procreazione Della vita Deve essere fatta Con un atto di amore Per un fine di amore Non per un atto Di egoismo Con un fine di egoismo O con una Pura mentalità Tecnologica O di Superuomo Che si vuole sostituire A Dio Così come oggi Pensano Tanti medici Questo è Sicuramente Un qualcosa Di cui si dovrà Rispondere gravemente Nel giudizio Sia particolare Che universale Nessuno Si può sostituire Impunemente Al creatore E distruggere Quelle leggi Che lui ha Iscritto Nella nostra natura Rosalba D'Alcamo Dice Si bello Io ne sarei Felicemente Felice Grata Don Pietro Se faremo Gli esercizi Ecco riguardo Gli esercizi Ritorniamo Su questo punto Vediamo Se riusciamo A farli Antonella Bucci Dice Io vorrei Che diventassimo Tutti poveri Saremmo tutti Più felici E molto più credenti Ecco Poverissima Indigenti No carissima Antonella Perché poi L'indigenza Tante volte Potrebbe anche Allontanare Da Dio Perché Molti Che si trovano In stato di bisogno Poi magari Danno la colpa Anche a Dio Sì io direi Sobri No La sobrietà E questa La possiamo Avere già Fin da oggi Pur avendo Dei beni materiali Avendo delle possibilità Però vivere In modo sobrio E impegnarci Per il bene Del prossimo Con quello Che abbiamo Di superplo Aiutare Magari Delle famiglie In crisi Poiché Siamo in un tempo Come dicevo Che un milione e mezzo Due milioni di famiglie Quattro Cinque milioni Di persone Sono Alla fame E qualcosa di assurdo Che in Europa E in Italia Ci siano persone Che rischiano Di non mangiare Ogni giorno Di non avere Il cibo necessario Per sostentarsi Ritina Spada Dice Far conoscere E far conoscere Queste catechesi Che poi Far conoscere Il catechismo Della chiesa cattolica A tanti amici Perché molte persone Peccano Per mancanza Di conoscenza Ed è importante Che noi Illuminiamo Le menti E un'opera E un'opera E un'opera di misericordia Comico Deve fare Il comico Deve fare il comico Lasci stare L'insegnamento Dei comandamenti A chi Dio ha istituito Proprio per questo E cioè Gli apostoli Che sono i vescovi E poi Il collaboratore Dei vescovi Che sono i sacerdoti Il catechismo Della chiesa cattolica Chiaramente È questa Via maestra Che tutti Devono seguire Vescovi E sacerdoti Perché qui C'è la sintesi Di tutta la fede Della chiesa E chi si allontana Dal catechismo Della chiesa cattolica Sbaglia Anche Se è un vescovo Perché purtroppo Oggi ogni tanto Si sente qualche vescovo Che dice cose Che non sono contenute Nel catechismo Quel vescovo sbaglia Deve ritornare Al catechismo Della chiesa cattolica Così Tanti sacerdoti Purtroppo Che si trovano Anche in internet Dicono delle cose Che non sono contenute Nel catechismo Della chiesa cattolica Sbagliano Chi si allontana Dal catechismo Della chiesa cattolica E dunque poi Dal vangelo Perché il catechismo Non è altro Che una esplicitazione Diciamo Del vangelo Sicuramente Cade nell'errore E porta nell'errore Tante altre persone Grazie Antonelli Dice E siamo entrati Tutti nell'errore E nella confusione Questo è vero È il tempo Della grande confusione La Madonna D'Anguera Lo dice continuamente Che stiamo vivendo Il tempo Della grande confusione Spirituale Tanti peccano O l'hanno fatto Per ignoranza Eh sì E però poi Le conseguenze Purtroppo Le dovranno pagare Amaremente Alcuni magari Per tutta la vita Re Diana Toso Dice Don Pietro Io non ho avuto figli Ora non potrei Come vi devo sentire Carissima di Diana Anche Noi consacrati Sacerdoti Che viviamo il celibato E suore Che si sono consacrati Con la professione solenne Non abbiamo figli Carnali È vero che I figli sono un bene Proprio della famiglia No Quindi una famiglia Che non ha figli È una famiglia Chiaramente Non completa Però sicuramente Dal punto di vista Spirituale Non vuol dire Essere meno Perfetti Anzi Lei può sicuramente Impegnarsi In una maternità Spirituale Ed una fraternità Spirituale E quando noi Apriamo il cuore All'amore Verso il prossimo Magari impegnarsi A fare volontariato Con dei bambini poveri Con dei ragazzi disabili O con altre situazioni Di difficoltà Questo Le può far esprimere Quella maternità Che sente nel cuore Così come Diciamo Fanno le suore E per noi sacerdoti La paternità In questo momento Io insegnando A voi La parola di Dio Vi sto generando Nella fede Vi sto facendo Nutrendo Nella fede E quindi Sto esercitando La mia paternità Spirituale Nei vostri guardi In quanto sacerdote Loredana Costa Dice Quando si commettono I peccati Perché non si è A conoscenza Della gravità Del peccato Cosa succede Del cospetto Di Dio La coscienza Carissima Loredana Può giudicare Soltanto Dio Noi possiamo Giudicare I peccati Se sono Più gravi Meno gravi Secondo i comandamenti Per compiere Un peccato mortale Come ho spiegato In alcune dirette Apposite Servono La materia grave Che sono i dieci comandamenti La piena avvertenza Sapere che quella cosa È peccato E il deliberato consenso E volerlo fare E dunque poi farlo In questo caso Si commette Un peccato mortale Cioè se non ci si pente Si potrebbe andare A finire all'inferno Se al contrario C'è la materia grave C'è La piena avvertenza Ma manca Il deliberato consenso Ci può essere Un peccato grave Ma non un peccato mortale Se al contrario Non c'è la materia grave Ma c'è Il deliberato consenso E la piena avvertenza Si ha un peccato veniale Se manca la materia grave Quando c'è materia grave E se ci sono Le altre due condizioni Cioè Piena avvertenza Conoscere che quello Peccato può essere grave O mortale E poi volerlo fare E farlo Lì c'è un peccato mortale Anna Unida Dice Don Pietro Sono anni che cerco Una spiegazione Su questo racconto Di Abramo E Sara Ora che c'è L'argomento Non riesco Ad avere risposta Mi faccio La domanda specifica Carissima Anna E cercherò Di rispondere Maria Parascandolo Dice Il mio sacerdote Ha fatto tempo fa Le catechesi Sul catechismo Della chiesa cattolica E' stato molto chiaro Ascoltando lei Mi sembra Di sentire lui Bene Mi fa molto piacere Carissima Maria Che ci siano sacerdoti Che spiegano Con molta chiarezza Il catechismo Della chiesa cattolica Perché questo E' il nostro punto Di riferimento Severina Gargano Dice Pensi Proprio l'altra sera Una mia amica Mi aveva detto Di guardare I dieci comandamenti Di Benigni Dicendomi Che insegnano Tante cose Io le dico Non li guardi Perché In mezzo Delle cose vere E mischiano Tante cose false Perché hanno Una visione Sballata Cioè lui mischia Una Una concezione Dei comandamenti Antico testamentaria Cioè ebraica Cattolica Evangelica Valdese Cioè fa un frutto misto E quindi viene fuori di tutto Noi sappiamo Che la pienezza Della verità E' nella chiesa cattolica E che la chiesa Ha diciamo Sintetizzato Tutto il cosiddetto Depositum fidei Il deposito Della fede Cioè tutte le verità Della fede All'interno del catechismo Che è questo strumento Meraviglioso Che ci ha lasciato San Giovanni Paolo II Unitamente All'attuale Sommo pontefice E merito Benedetto XVI Quindi E' veramente Un grande dono Proprio per questo tempo Di grande confusione Dio Ci ha lasciato Questo dono Affinché Chi vuole Continuare Ad essere cattolico E a credere Quello che è stato Sempre creduto Sia Facendo riferimento Alla scrittura Che alla tradizione Della chiesa Lo possa fare Cioè possa restare Un credente Cristiano Cattolico Bene Posso leggere Qualche altro versetto Del catechismo E poi Concludiamo Al punto 2378 Dice Il figlio Non è qualcosa Di dovuto Ma Un dono Il dono Più grande Del matrimonio E' una persona Umana Il figlio Non può essere Considerato Come oggetto Di proprietà A ciò Condurrebbe Il riconoscimento Di un preteso Diritto Al figlio Cioè come se I genitori Avessero diritto Ad avere un figlio Non è così I diritti Ce l'ha Il figlio Non ce l'hanno I genitori Il figlio E' un dono Che i genitori Ricevono da Dio Perché Perché loro Possono dare L'aspetto Fisico Al figlio E dunque L'ovulo E lo spermatozoo Ma l'anima La dà Dio L'uomo E' incapace Di generare Di creare L'anima Solo Dio Può creare L'anima Ecco perché Il figlio Non è un diritto Ma è un dono Di Dio Ed è il figlio Stesso Ad avere il diritto Che i genitori Si comportino Secondo la volontà Del creatore Nel concepirlo E nel darlo E nel darlo E nel darlo Alla luce In questo campo Soltanto il figlio Ha veri diritti Quello di essere Il frutto Dell'atto specifico Dell'amore coniugale Dei suoi genitori E anche Il diritto A essere rispettato Come persona Dal momento Del suo Concepimento Dunque E' già L'embrione Ma anche Proprio L'ovulo fecondato Ha il diritto Di essere Trattato E rispettato Come persona Perché lì ormai C'è il principio Di quella persona E c'è già L'anima E basta Soltanto aspettare Tant'è che si può Persino Concepire Un bambino In una provetta Ecco Questa E' l'affermazione La prova provata Che il bambino E' una persona Sestante E non è una parte Del corpo Della mamma Come Dicevano le femministe Negli anni settanta Per chiedere L'approvazione Della legge Sull'aborto Il corpo è mio E ne faccio Quello che voglio Ma il bambino Non è il corpo Della mamma Nel momento In cui c'è L'unione Dell'ovulo E dello spermatozoo Lì c'è una nuova persona Che non è più Il corpo Né del papà Né della mamma Ma di questa persona Nuova Che è stata generata E può crescere Persino In provetta Fino a un certo stadio Dunque I diritti C'era il bambino Non i genitori E c'era Dio Che è il creatore Di tutto Il Vangelo Mostra che la sterilità Fisica Non è un male Assoluto Gli sposi Che dopo aver Esaurito I legittimi ricorsi Alla medicina Soffrono di sterilità Si uniranno Alla croce Del Signore Sorgente Di ogni fecondità Spirituale Ecco Si passa Dall'aspetto Della fecondità Fisica Che purtroppo Magari in alcune coppie Non c'è Alla fecondità Spirituale Come dicevo prima Alla nostra amica Si può aprire il cuore Ad una maternità Spirituale Ad una fraternità Spirituale Ne riguarda Delle persone Che soffrono Dei bambini poveri Dei ragazzi disabili E di chiunque Si trova in difficoltà In quel modo La persona Si realizza Pienamente Pur non avendo avuto Dei propri figli Tant'è che Ci sono tanti genitori Che sono Dei genitori Reprobi Perché Non si comportano Da veri e propri genitori O perché Li uccidono Con l'aborto O in altri modi O perché Li sfruttano O perché Li violentano I bambini Ecco Concepire un bambino Non vuol dire Essere Un vero e proprio Padre O madre Il padre e la madre Diventa colui Che dopo averlo Concepito Generato Lo accudisce Con amore E lo tratta Con quella Inallenabile Dignità Che appartiene Ad ogni persona Essi dunque Possono mostrare La loro generosità Adottando Bambini Abbandonati Oppure Compiendo Servizi Significativi A favore Del prossimo Come dicevo Prima Bene Carissimi La nostra Ora Sta per Scoccare Adesso Faremo Qualche Preghiera E poi Vi darò La Santa Benedizione E ci ritroveremo Domani Alle ore 15 Per la Coroncina Della Divina Misericordia Vi ricordo Anche Che il 23 Cioè Venerdì sera Alle ore 19 Sarò A Torino Nella parrocchia Di San Giorgio Martire Via Barrivi 12 Eravamo Molto numerosi L'ultima Volta Speriamo Di esserla Ancora di Più Questa Volta Il Signore Sta concedendo Veramente Tante grazie Spirituali E materiali E tutte le persone Che vengono Sono almeno Da quello Che mi hanno Testimonato Molto contente Quindi Pregare insieme Condividere la fraternità Ma specialmente Stare alla presenza Di Gesù Maria E' sempre Una grande Gioia E una grande Grazia Poi volevo dirvi Che ancora Abbiamo qualche Posto Per il Pelligraggio Meggiugorio Che si svolgerà Dal 28 Di aprile Al 4 maggio Una settimana Chi volesse Partecipare A questo Pelligrinaggio Mi può Contattare Privatamente Adesso Entriamo In preghiera Rispondo Soltanto Ad Anna Onida La quale Dice Volevo sapere Perché Abramo Era andato Con la schiava Se poi Dio Gli ha dato Un figlio Suo Per l'insistenza Della moglie Sarai Che purtroppo Non ha avuto Fede come Abramo E l'ha costretto Quasi Ad avere il figlio Con la sua schiava E la schiava Partorito Perché questa Era una legge antica Sulle ginocchia Di Sara In modo che Quel bambino Praticamente Risultasse poi Di Sara Cioè Della moglie Di Abramo Però poi A un certo punto Dio Che aveva fatto La promessa Ha mantenuto La sua promessa E dunque Sara È rimasta incinta E nel momento In cui è rimasta Incinta È divenuta Gerosa Della sua schiava E l'ha fatta cacciare Con il suo bambino E quindi Poi si sono creati Queste due grandi stirpe Che vengono riconosciuti Oggi Una come La stirpe degli ebrei E l'altra Praticamente Sarebbero I musulmani Che sarebbero Tutti discendenti Di Abramo Queste sarebbero Le spiegazioni Diciamo Ecco Quindi Questa è la spiegazione Di quello che Lui ha chiesto Entriamo in preghiera Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato Il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta La tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi Il nostro pane quotidiano E rimetti a noi I nostri debiti Come noi Li rimettiamo Ai nostri debitori E non ci indurre In tentazione Ma liberaci Dal male Ave o Maria Piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta Per le donne E benedetto Il frutto Del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso E nell'ora Della nostra morte Amen Gloria al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio Ora e sempre E nei secoli Dei secoli Amen Angelo di Dio Che sei il mio costode Illumina Costodisci Reggi e governa me Che ti fui affidato Dalla pietà celeste Amen L'eterno riposo Dona loro Signore E splenda Dessi la luce Perpetua Riposino in pace Amen O glorioso San Michele Per noi Il Signore Sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Vi libero Da ogni male Maleficio Maledizione Sortileggio Incantesimo Fattura Legatura Stregoneria Invidia Gelosia Odio Rancore Malocchio Ogni forma Di male Occulto Dalle conseguenze Le messe nere Vi dia pace Serenità Salute Prosperità Comunione E fedeltà Coneugale Fecondità Di vita Vi faccia crescere Nella fede Nella speranza Nella carità E in ogni virtù Vi faccia aggiungere La gioia eterna Del paradiso Insieme con tutti I vostri cari Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Benediciamo il Signore Rendiamo Grazie a Dio